Bella ragazzi sono Deluxe, siamo oggi con questo nuovo video su Call of Duty Ghost, finalmente siamo tornati su Ghost appunto Con il quinto episodio, intanto sbatto ovunque, comunque con il quinto episodio della vostra classe Vi dico subito la classe chi me la consiglia, si chiama John Frost, che salutiamo, ciao bello L115 con silenziatore Minion Oacog, tra poco ti insulterò perché con secondaria Lancia Semtex che è l'MK32 E tutti i perk da 1, con tutti quelli da 2 usando specialista Allora, vi faccio vedere la classe com'è, intanto controlliamo un attimo se sta registrando Allora, Alpha Sniper, vediamo com'è, L115, silenziatore Mirino Oacog, ovviamente ambienti che cazzate varie lasciamo perdere MK32, letale tattica l'ho aggiunto io perché avanzavano dei punti Specialista, e mettiamo il coltello, specialista appunto tutti quelli da 1 E, no scusa, specialità tutti quelli da 1 e specialista tutti quelli da 2 Ok, finalmente abbiamo trovato la cazzo di partita, uccisione confermata, siamo su Freight Prima tipo mi aveva trovato una partita random su Free Fall che era già iniziata però Ma niente, ho provato questa classe e vi assicuro che c'è da morire perché non fai un'uccisione Con l'L115, già fight marker normale senza silenziatore Poi in più mi ci avete fatto mettere il cazzo di silenziatore, questo puntatore è epico Shuriken Allora, stordente lì in fondo Entra dentro, non entra la stordente, fa niente Stuf, colpo alla testa che culo No, ma preso dall'in fondo non si sa con che cazzo di arma Non è un DMR, attenzione No, non trovo nessuno in poche parole perché all'in fondo c'è sto coglione Io con sto mirino qui non riesco a fare niente Ovviamente, giustamente più che ovviamente Lì c'è qualcuno, sta faccia lì, guarda Fufufufu L'ho preso Questa mappa è un po' ambigua Mi sembra tanto quella del pacchetto espansioni di Mv2 Che è troppo figa Però Madonna santa, erano in 32.000 Qua dietro, aspetta, sono ancora qua dietro Stordente Morto C'è nessuno? Ok, recuperiamo la piastrina E facciamo punto Comunque Allora, ho visto che molta gente sta facendo il let's play di Outlast Ovviamente non lo farò anch'io perché non vado sul Sì, t'ho preso in testa Ma sto facendo solo edge shot in poche parole Comunque, vi stavo dicendo, non andrò a farlo anche io Pur qua Perché Già lo stanno facendo in mille, non mi sembra il caso Ma Vi voglio ricordare che tra poco esce The Forest E quello lo farò sicuro Quello è poco ma sicuro che lo farò The Forest 2 Quel gioco tipo Sopravvivenza stile Minecraft Dove devi sopravvivere, costruirti la casa, eccetera, eccetera E in più Tacchiappano dietro La notte, giustamente Vaffanculo Non tacchiappano dietro solo loro Ma tacchiappano dietro anche gli zombie E i morti in piedi Io intanto Vi voglio ricordare di passare dai social In descrizione In description Perché? Perché Li terrò sempre aggiornati Twitter, Instagram E tu Instagram Posto le cazzate Soprattutto roba da mangiare, giustamente Twitter E Ok Devo prenderlo dal petto in su E Twitter e Facebook Invece Passateci Perché veramente è importantissimo Ammazzao che due goglioni Quando faccio il marker Perché sono social importantissimi Dove li tengo aggiornati sempre 24 ore su 24 Su I miei movimenti Del canale Quanto stiamo facendo? Non ho controllato il punteggio Questo è uscito di qui, no? È ancora qua dietro? Sì? No, non è ancora qua dietro C'è una torretta qua dentro Ma che cazzo ci comete? La torretta lì dentro Non fa un cazzo Combina meno di Un pene dentro Un portabagaglio Oh Le birre Chiappane una No, distrutte tutte Chiudi la porta Vamos Ok, la torretta è ancora lì dentro Nessuno l'ha distrutta Intanto Neghiamo l'uccisione Qui, qui, chi c'è? Qui, chi c'è? Qui C'è nessuno Prendiamo La piastrina Ma faccio Pezzo di merda Io so che So che stai lì E ti faccio un trickshot Oh Pensavo di farlo Nooo Nooo Se facevo il trickshot Qui in live Era la cosa più epica del mondo Intanto Allora vi prego Non lasciatemi classi di merda Come questa Almeno una Una classe accessibile Dove magari io mi posso buttare Dal terzo piano di un edificio Pezzo di merda lì in fondo Dal terzo piano di un edificio E fare un trickshot Quindi magari una classe Con un cecchino Senza Silenziatore Perlomeno Attenzione Lì se avevo l'USR Avevo già fatto una triple feed No non è vero Però fa niente Ah comunque Ultimamente sono tornato su Black Ops 2 Attenzione Sono tornato su Black Ops 2 Come avrete visto dal Vedi Se seguite la pagina Facebook Voi che state vedendo il video Andate a mettere ora Mi fermo Guarda Mi metto qui dietro Guardo il murales No Ehi Ehi tu Devo guardare il murales Guardo il murales E aspetto Dovete mettere like al video E a parte gli scherzi Dovete mettere like alla pagina Perché Perché lì Avevo fatto un post Dove dicevo Che avrei aggiunto tutti Tutti quelli che Leggevano quel post E si davano da fare Se si davano da fare Mi inviavano la richiesta Sia su Playstation 4 Quindi su Playstation in generale Sia su Xbox Io avrei accettato tutti Oh che cazzo è Bombardamento dal cielo Puttana neva Avrei accettato tutte le richieste Su Xbox E su Playstation Per Eventualmente Nel caso tipo Mi trovavo lì Che dovevo fare Fare un gruppo O comunque Un giorno che farò una lobby Come cazzo ha fatto Da coltellarmi solo Dio lo sa Un giorno che mi trovavo Per fare un open lobby Per appunto Fare queste cose qui Cioè Questo qui Che cazzo stavo combinando Quindi Avervi già tutti in lista E potervi invitare tutti quanti Quindi Passate dalla pagina di Facebook Lasciate like E ricordatevi di aggiungermi qui su Il Playstation Network Quindi Deluxe Aggiungete Chi cazzo volete Tanto massimo di Richieste di amicizia Quello lì mi incula di lato Sono 2000 Quindi Inviate tutti quanti La richiesta d'amicizia Ah Il 17 Solo il 17 Penso Comunque sia il 17 Che il 18 Probabilmente Insieme a Il trio sdrogo In poche parole Io l'Aila Saremo Al Vigamus Che è un Che dove Dove cazzo Spara Che è un museo De videogiochi A Roma Probabilmente Metterò qua Tanto mi muovo Con una mano Ok 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 Però lì In descrizione Comunque La via Di dove si Trova questo Museo Di videogiochi T'ho preso in testa, pigliatelo nel culo Quindi Se volete venire a trovarci Si terrà appunto questo evento Riguardante Assassin's Creed Dove noi ovviamente andiamo lì giusto per trovarci Un modo per trovarci tra di noi E per visitare diciamo questo museo Di un nostro amico, quindi se volete passare Lascerò tutte le info In descrizione Ci troveremo direttamente lì a questo A questo museo, il museo opera dalle 10 Del mattino fino alle 8 di sera Ci saranno varie Diciamo, come si dice Occasioni per Poter fare foto eccetera eccetera Ma soprattutto per voi Per vincere, adesso non mi ricordo bene Se è una copia di Call of Duty o comunque dei gadget Perché faranno dei mini contest Adesso, dei mini quiz Da quello che ho capito, quindi Niente, intanto usciamo dalla partita E niente, quindi vi ricordo di passare Dalla pagina Facebook, lasciare like Un commento, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Lascerò tutto quello che riguarda Questo evento del Vigamus Di Questo fine settimana Cioè il prossimo, quindi il 17 E niente Lasciatemi un commento con scritto la classe Che volete che usi nel prossimo Episodio della vostra classe Ovviamente Fate una classe abbastanza decente E da Deluxe è tutto Bella Che partite la classe abbastanza decente E da che partite la classe abbastanza decente E da che partite la classe abbastanza decente